Approfondimenti sugli apparecchi di cottura per uso domestico. È stato questo il tema del primo seminario del 2019 rivolto agli studenti iscritti al nuovo corso di laurea Unicam in Scienze Gastronomiche. Aperto dai saluti del responsabile del corso di laurea Gianni Sagratini e introdotto dalla docente di fisica Andrea Perali, il seminario è stato ottenuto dal dottor Luciano Antonini, General Manager di Zepa Teca Group, multinazionale che si occupa della produzione di elettrodomestici per la cucina e piani cottura. Il corso di laurea in Scienze Gastronomiche, fortemente voluto da Unicam e che si radica nelle numerose attività di ricerca dell'Ateneo nel settore dell'agroalimentare, ha da subito riscosso notevole successo, come testimoniato dal numero degli iscritti che ha raggiunto le 110 unità. Il corso ha l'obiettivo di formare una figura professionale che sia un esperto con competenze nell'ambito dell'intera filiera gastronomica, studiata ed analizzata con un taglio trasversale, attraverso le discipline delle scienze degli alimenti, della nutrizione, del management, del marketing, del food design, del diritto alimentare, della storia dell'alimentazione, dell'antropologia e dell'economia.